Ciao Tienes Friends! Come state? Benvenuti in questo nuovo video! Oggi parleremo del Kong. Che cos'è? A cosa serve? E come si utilizza? Come abbiamo già visto in un altro video che trovi qua sopra su come prevenire le distruzioni in casa, questo Kong è un gioco che possiamo lasciare tranquillamente al nostro cane anche tutto il giorno, a differenza degli altri giochi che abbiamo visto. Questo perché? Perché è fatto di un materiale praticamente indistruttibile, quindi anche per cani con una mascella molto forte non riusciranno a distruggerlo perché è veramente indistruttibile. In più eventualmente in questi casi, ve lo dico subito, c'è anche la versione in nera, quindi ancora più resistente. Ma soprattutto perché possiamo lasciarlo ai nostri cani? Perché può essere utilizzato un po' come un antistress, quindi anche se magari il vostro cane soffre di ansia da separazione o comunque vogliamo tenere impegnato il nostro cane, questo è un gioco molto molto utile perché come capita a noi che magari mangiamo una ciunga, può capitare anche ai nostri cani che abbiamo bisogno di sfogare un po' il nervoso e lo fanno sicuramente con la bocca. Quindi è importante dargli un qualcosa su cui potersi sfogare e questo è proprio il gioco fatto apposta. Ma come si utilizza? Possiamo sia lasciarlo direttamente al cane, in modo che il cane lo utilizzi per mordere un qualcosa che può essere morso, oppure all'interno, come puoi vedere, c'è un foro. All'interno di questo foro gli possiamo mettere delle crocchette, in modo tale che il cane giocando dovrà concentrarsi per riuscire a tirare fuori queste crocchette. Quindi può essere visto anche come un gioco cognitivo, perché il cane se tenterà continuamente di farlo rotolare velocemente non riuscirà ad ottenere il suo risultato, quindi le crocchette che sono all'interno. Invece deve concentrarsi per riuscire a fargli fare questo movimento, molto piano, in modo da far uscire delle crocchette. Quindi questo terrà impegnato il vostro cane e in più lo aiuterà a far accrescere il suo lato cognitivo, quindi la sua capacità di risolvere un problema. Una volta che il nostro cane ha imparato come utilizzare il Kong con i crocchettini all'interno, possiamo inserirgli all'interno o dei cibi spalmabili fatti apposta sempre dalla Kong, oppure semplicemente del Philadelphia, una sottiletta scaldata leggermente in microonde, oppure dello yogurt. Glielo spalmiamo all'interno e gli inseriamo magari anche dei bocconcini. In questo caso lo stesso gioco di prima, quindi quello di farlo rotolare per far uscire il cibo, non funzionerà e dovrà trovare un'altra soluzione. Quale sarà questa soluzione? Intanto imparare a tenerlo fermo con le zampette. Dopodiché dovrà con la lingua andare a leccare all'interno. Questo impegnerà per molto più tempo il nostro cane, in più imparerà una nuova tecnica per raggiungere il proprio obiettivo. Quindi magari se anche un cane che tende a morsicare le mani o comunque un cane che utilizza molto la bocca, facendo questo gioco con un formaggio spalmabile all'interno, imparerà anche ad utilizzare la lingua, quindi ad ottenere il suo risultato non utilizzando i denti ma utilizzando la lingua, il che si ritrasferirà anche nel rapporto con voi, con le vostre mani, eccetera. Parlo del Kong perché è il marchio più diffuso, quello che l'ha introdotto, ed è un materiale veramente resistente e l'ho provato in prima persona, quindi posso assicurarvi che funziona veramente alla grande. Adesso ci sono altre marche che propongono degli oggetti simili. Eventualmente ne parleremo in un altro video. Per oggi è tutto, se questo video ti è piaciuto non ti resta che mettere un bel mi piace, condividilo, commenta sotto dicendoci cosa ne pensi se anche tu lo utilizzi e soprattutto di cosa vorresti che noi parlassimo e soprattutto iscriviti al canale e accendi la campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Detto questo chiamo la Spring per il salutino. Ed eccoci qua, un saluto da Tiz e Spring di TienesProject.com